Io sono Paolo, sono un istruttore di Disabled Diver International. DDI in Italia arriva nel 2015 e a Taranto subito dopo, quindi per la fine del 2015. A Taranto abbiamo il nostro punto di riferimento all'interno della SD Buda e Taranto. DDI punta a creare un network, una rete che leghi gli istruttori e centri di formazione DDI in tutta Italia e nel mondo. Questo perché l'approccio con una disciplina che comunque è così bella ma anche così impegnativa possa creare all'interno di una rete l'opportunità per ognuno di potersi appoggiare a un istruttore con più esperienza. La subacqua è uno sport altamente inclusivo, per definizione non esistono barriere in acqua ed è uno sport che non prevede nessun tipo di esclusività. Noi condividiamo l'immersione anche se didatticamente vengono predisposti degli assistenti, ma in acqua siamo né più né meno che compagni di immersione. Il No Barrier Tour è un evento dimostrativo in cui dimostriamo che tutto è possibile. La subacqua è da sempre stata considerata uno sport un po' estremo e a maggior ragione riusciamo a dimostrare che chiunque può praticarla. All'interno di questo elemento che è l'acqua, che è privo di barriere architettoniche, l'impatto emotivo è fortissimo perché entrare in un nuovo mondo in cui si ha la percezione di volare in assenza di quella forza di gravità che purtroppo molto spesso costringe le persone con disabilità alla carrozzina, il tutto viene vissuto in pieno divertimento. Oggi faremo un No Barrier Tour, è il sesto organizzato qui a Taranto dall'associazione Buda e Taranto ed è un pre-evento per Grottaglia e Capitale Europea dello Sport 2020. In questo pre-evento dimostreremo che la subacqua è davvero uno sport accessibile a tutti. Gabriele Tavolaro è stato il nostro allievo più piccolo. Quanti anni hai? Vedi. Ne aveva dodici lo scorso anno quando hai iniziato. Conosciuto proprio in un No Barrier Tour. E adesso è un nostro affezionatissimo subacuo che condivide con noi tante esperienze. Da allora non riesce più a fare a meno di noi, l'hai detto tu, eh? Sì. Vero? Vedi qualcosa tu? Sono Gabriele e sono un supereroe. Sì.